Gentili telespettatori, buona giornata. Nei convegni della sinistra dicono che se sull'autonomia differenziata il governo perde, se la Meloni perde il referendum si deve dimettere, si deve quindi, è doveroso, è obbligatorio dimettersi. In realtà la sinistra spera che questo sia un referendum sul governo, ma la Meloni lo aveva detto chiaramente. Io porto il referendum o meglio, si arriva al referendum perché non c'è altra strada, non si possono fare le riforme costituzionali in Parlamento perché non ci sono i numeri, per far passare delle riforme costituzionali come l'autonomia e il finto premierato bisogna avere il 66% dei voti in Parlamento e la maggioranza non ce li ha il 66% dei voti, neanche con l'aiuto di Calenda e Renzi si raggiunge quella cifra e allora bisogna finire il referendum. Il referendum confermativo dove senza un quorum gli italiani dovranno andare a votare e dire sì o no all'autonomia differenziata, sì o no al finto premierato. Ovviamente i referendum sono un punto di domanda perché li fanno d'estate, la gente non va a votare, c'è un forte astensionismo e spesso, come è accaduto in Francia, come è accaduto in Emilia Romagna, come è accaduto alle elezioni a Roma comune. Quando ci sono questi appuntamenti la sinistra prende, si alza dal divano e va a votare, quelli di destra no. E così spesso in queste tornate elettorali si ribaltano i risultati. La Meloni ha detto io porto la legge, gli italiani dovrebbero andare a votarla, se poi non ci vanno io il mio dovere l'ho fatto. Ho promesso una legge, la porto in Parlamento, si va al referendum e poi se quelli che hanno la maggioranza nel paese, cioè quelli di centrodestra, poi alla fine non si alzano dal divano, dalla sedia e vanno al seggio a votare, è un problema degli italiani non più mio. Il mio l'ho fatto. Quindi la Meloni ha sempre detto il referendum non è un referendum, cioè il referendum sulle riforme costituzionali non sono un referendum sul mio governo. Come dire, se non si alzano e vanno a votare io non ci posso fare niente, il mio dovere l'ho fatto. Ma la sinistra insiste, se Giorgia Meloni dovesse perdere il referendum per abolire l'autonomia differenziata dovrà trarre le conclusioni e dimettersi, perché non c'è solo il referendum per confermare l'autonomia differenziata, ma c'è anche un referendum proposto dalla sinistra che sta raccogliendo le firme, o meglio con i cinque consigli regionali delle regioni che loro guidano. Ci sarà anche un referendum per abolire l'autonomia differenziata, quindi in contemporanea, mentre procede un referendum per confermare l'autonomia differenziata, procede anche un referendum per abolire l'autonomia differenziata. Quindi la sinistra dice che se dovesse fallire un referendum o l'altro, cioè quello per confermare l'autonomia o quello per cancellare la conferma dell'autonomia, lei deve comunque dimettersi. Lo dice il segretario per esempio, oltre al PD anche del PSI, Enzo Maraio, in una conferenza stampa a Napoli, convocata per annunciare diversi movimenti di partito. E dicono che noi ci uniamo per combattere un governo a prescindere, non per combattere un governo a prescindere, ma per evitare che diventi realtà un sistema istituzionale che non ha simili nel mondo. E continuano a insistere che il referendum sull'autonomia e soprattutto quello sul finto premirato porterebbe in Italia un qualcosa che non esiste nel mondo. Ma questa è una sciocchezza dire questo, perché se una cosa non esiste allora non la puoi fare. Deve essere una cosa che ha già fatto qualcun altro. Ecco, questa è una sciocchezza che continuano a dire da diverso tempo. Ecco, quella che diventa poi un sistema istituzionale che non ha simili nel mondo. E vabbè, sarà un sistema nuovo. E al contempo per evitare un meccanismo di autonomia delle regioni in cui viene loro affidata la gestione di materie essenziali come la scuola pubblica, la sanità universale, che sono i pilastri a cui noi non possiamo rinunciare. Giorgia Meloni aggiunge non potrà far finta di nulla e declassare l'esito del referendum a normale routine. Per questo in caso di sconfitta dovrà trarne le conseguenze perché ha legato a doppio filo governo e riforme. In realtà non ha legato a doppio filo proprio nulla. Questo se lo sta inventando quello che le racconta. E poi Renzi si dimise dopo che la sua riforma istituzionale venne bocciata dagli elettori. Craxi uscì vincitore dal referendum sulla scala mobile e consolidò la sua leadership. In politica tutto si può fare tranne che far finta di nulla. Ricordando che il PSI è parte attiva del comitato promotore per il referendum contro l'autonomia differenziata. Ma tanto l'autonomia differenziata è difficile che si realizzerà per due motivi. Prima di tutto ci sono questi due referendum e come vi dicevo ai referendum quelli di sinistra escono di casa e vanno a votare. Secondo punto per l'autonomia differenziata servono centinaia di miliardi di euro che non ci sono e non ci saranno mai per fare quei famosi LEP. Pertanto l'autonomia che ha votato il Parlamento sarà poi di difficile approdo finale proprio per queste due ragioni. I referendum e i soldi che non ci sono. Quindi rimarrà sulla carta. Salvini potrà dire al suo elettorato l'ho fatta. Era una promessa elettorale stata fatta. Poi se non si può realizzare perché mancano i soldi o quelli di centrodestra non vanno a votare il referendum il governo dirà noi ci abbiamo provato mancano i soldi e quelli di centrodestra non sono andati a votare nel caso il referendum dovesse fallire. Grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche l'altro canale che si chiama Teleitalia Seconda Rete. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.